Ciao a tutti, Dreamleapoon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio della Nozberry Challenge. Oggi è la giornata della primavera, cioè Pasqua, e i nostri vecchietti di casa stanno facendo colazione. Allora, oggi non dovremo fare le pulizie di primavera nei mobili, giusto? Beh, no, è la giornata della primavera, ci sarà una festa con i parenti. Ah già, giusto, giusto, l'età fa perdere la memoria alla nostra povera Rossana. Ah giusto, giusto, beh speriamo che sia bel tempo al parco. Sì, speriamo che sia bel tempo. Marisol si è svegliata per andare in bagno, ma adesso torna a dormire perché non ha recuperato del tutto, esatto, l'energia. E quindi, va bene, anche tu oggi tempo sui libri e sui compiti da correggere, mi raccomando. Ma no tesoro, oggi ci godiamo la festa insieme alla nostra famiglia. Prepariamo magari dei dolci da portare? No, guarda, fa lo stesso per i dolci Barley. Infatti oggi andremo al parco e ne approfitteremo per festeggiare un po' fuori casa. E il nostro, oh buongiorno Darren, vuoi prendere la macedonia? Va bene, prendi la macedonia. Ma hai recuperato l'energia? Sì. Va bene, allora tu mio caro vecchietto vai in bagno, perché sì. No, 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 non chiacchierare. Vai in bagno e poi ti fai anche... no. Una... ma perché? Una bella doccia. Continuavo a confondere la libreria con la doccia. Andiamo bene, Dream. Proprio molto molto bene. Eh, Marisol, sei un po' stanchina, eh. D'altronde in questo periodo ha cercato di darci dentro col razzo, non solo nel modo in cui abbiamo visto l'altra volta, ma anche, cioè, dal punto di vista lavorativo, ovvio. E... uh, che carini. Ciao Rossana, come va stamattina? Mai preso da mangiare alla fine? Sì. Allora cantiamo, perché oggi è Pasqua. Sì, ma Rossana, questa era la canzone di Natale. Eh, vabbè, Natale, Pasqua, che importa? Ma sì, che importa, sogniamo le trombe. Io che pensavo oggi di svegliarmi e dover mettere a posto i cassettoni per le pulizie di primavera, ma in realtà le ho già fatte e non me lo ricordavo. Vabbè, comunque preparerò un paio di tramezzini da portare fuori. Ma no, ma perché siete presi con queste cose? Ci sarà da mangiare là. Vai tranquilla, Rossana. Vai davvero tranquilla? Smettila un attimo di cantare, tesoro mio. E vieni qua perché stavi... Allora, prima dai la caccia all'uovo e poi stavi facendo qualcosa. Ecco, un maglione da donna, verde, acqua e giallo. Riprendi quello mentre aspettiamo che la nostra si svegli. Mamma mia, che sonno, tesoro. Alzati, alzati che è l'ora di alzarsi. Fai la doccia e poi vieni qua, dai la caccia all'uovo dato che ci sei e prendiamo qualcosa da mangiare, anche tu il parfait di yogurt e frutta. Fai fichi fichi con Darren. Uh, tesoro, cosa ti è successo da quando ti sei sposata? Vabbè, quel caroche non c'entra più niente. Bacio a Marisol. Oh, vedete, Marisol pensa sempre direttamente al fichi fichi. Darren invece ha i baci, alle cose romantiche. Va bene. Uh, crea un videogioco o un'app. Va bene, allora sfruttiamo un po' la mattinata mentre Marisol si prepara. per, appunto, fare qualcosina con gli altri. Crea un'app per cellulari. Così poi quando siamo pronti possiamo andare al parco dove faremo questa festa di inizio primavera, ecco. Di giornata della primavera, perché in realtà siamo a metà primavera. Sì, metà primavera. Davvero radiosa oggi. Cos'è successo, tesoro mio, per essere così radiosa? Fermi, rimandiamo l'uscita perché è arrivato il coniglio floreale. E tu vai a pulire la pozza. Ma no, tesoro, presentati al coniglio floreale. Presentazione garbata. Oh, salve, cosa vuole? Lei è vestito da coniglio? Beh, ma io non sono vestito da coniglio, sono il coniglio floreale. Il coniglio floreale. Oh, brava Rossana. Facciamo così. Dov'è? Aggiungi ai guardarobbi. Anche tu vai a presentarti. Presentazione garbata. Tutti a presentarsi al coniglio floreale, per favore. Se no, poi vi lamentate che questa giornata è stata uno schifo. Vai. Presentazione divertente. Beh, insomma, le sembra il caso di piombare qua in casa così, senza avvertire? Mi sarei vestita se l'avessi saputo. Beh, ma non farà più scivoloni su una buccia di banana questo giovanotto, vero? Ma che cosa state dicendo? Sono entrambi rimbambiti dall'età. Oh, dai un colpo fraterno. Vai. È una cosa che non puoi mai fare perché non c'è nessuno di amicone. Lascia stare. Vieni qua e parla. Lo stile di vita vampiresco. Non è un vampiro tesoro, è un coniglio floreale. Entusiasmati per gli interessi. Tu piantala. Ecco, è amicona. Ah, è una femmina. Tu non ti sei ancora presentato. Dai. Presentati. Lamentati della feste... Lo sapevo che Rossana si lamentava. Ma che ti prende a sberla il coniglio, eh? Dai, dici qualcosa anche tu, dici. Di qualcosa anche tu. Anche tu. Racconta una storia buffa. Tu, Marisol, vai a parlare con sto coniglio, per favore. Discuti degli interessi. Dove sei? Cosa stavi facendo? Vai a parlare col coniglio. Così poi non vi lamentate che non ci avete parlato. Beh, insomma, stavo quasi per farmelo addosso. Pensavo che Marisol mi avrebbe abbandonato all'altare, però non è stato così. Beh, capiamo tutti il tuo timore. Ma che sciocco che sei. Non è vero, signor coniglio. Io l'avrei sposato comunque. Perché è un ragazzo veramente d'oro. Sì, allora, una che guarda dall'altra parte. L'altro che non ha voce. Perfetto, direi. Ma a lei piacciono i dolci? Perché vorrà invitarla alla nostra festa che terremo il parco. Ah, no, beh, oggi devo andare in giro ovunque. Da tutti i bambini. Per lasciare i regali. Ma cosa sei, Babbo Natale? Va che hai sbagliato, eh. Hai sbagliato il tuo lavoro. Vabbè, abbiamo parlato col coniglio. Basta. Uh, tesoro. Devi dirci qualcosa. Ecco perché volevi entusiasmarti per lo spazio. Eh, perché l'ultimo aggiornamento, a quanto pare, è stato un po'... Turbolento. No? Eh sì, ragazzi. Altro che aggiornare il razzo, Marisol. Ci ha dato dentro e non nel senso di aggiornarlo. Eh sì. Eh sì. Ecco perché è così radiosa. Non lo sa nemmeno lei. Perché se lo sapesse, sarebbe infuriata. Anziché così radiosa. Grazie agli ormoni. Eh. Sì. Vero tesoro? Va bene. E allora con questa noticciola, io direi che ci vediamo direttamente al parco, prima che la giornata termini. Perché ormai si è già fatta una certa. Ed è ancora con la nausea che Marisol incontra i suoi cugini al parco. Il parco Vocciolo di Magnolia, perché ho deciso di festeggiare qua. D'altronde è una bella giornata. Qua non è nemmeno troppo caldo. Al parco di Oasis Springs saremo morti dal caldo, per cui restiamo qua. Eh sì, io sto attendendo che arrivino tutti gli ospiti, ma ad occhio dovremmo esserci tutti. C'è perfino Efron, che è triste, è pure lui. E abbiamo i suoi figli Acer e la bambina ancora non... Ah no, è qua. E Maple. Abbiamo tutti praticamente, sì, anche i figli di Silver e Oriel. Per cui io direi che creiamo i soliti gruppi e poi siamo pronti per andare a preparare un po' della cava. Perché ho organizzato una festa della cava. Per cui tesoro, ti spiacerebbe anziché guardare chi scivola... Ma perché? Cosa state facendo? Ah, qua si stanno già dando la pazza gioia, va bene. Ne abbiamo Richard e Sophie, sua zia Sophie, che sono sullo scivolo. E Crimson. Ma ci buttiamo anche noi, Rossana. Guarda che, a differenza tua, lei ha una certa età. Cioè, sì, anche tu hai una certa età. Però, insomma, siete in condizioni fisiche un filino diverse. Per cui Marisol, Marisol, scusate, Rossana, anziché perdere tempo a cialtronare, non puoi... Ah, giusto. Giusto che qua vogliono i banconi. Allora, mettiamo i banconi, creiamo i gruppi e poi si può davvero iniziare. Dando un'occhiata ai gruppi, mancano Oriel, ho visto, e Antea, però dovrebbero arrivare a breve, almeno speriamo. Per cui, io direi che andiamo a parlare con i tuoi cugini, magari attorno al fuoco. Che ne dici? Per cui, siediti e chiacchiera qui. E anche tu, siediti insieme. Così, almeno, state un po' in compagnia. Ovviamente, c'è anche papà Damien. Non potevo non invitarlo. Ovviamente, c'è zia Vivien. Suo marito e i suoi figli. Ovviamente, non potevo non invitare anche Damien. Ringrazia per la presenza. Lascia stare i piatti. Li laverete dopo. E Marisol viene qua a parlare con suo padre. Ma, ah, vi siete già buttati sullo scivolo. Va bene. Se non volete fare altro in questa giornata di primavera. Oh, ecco Oriel. Per cui ci manca solo Antea a questo punto. Aggiunge il gruppo. Mi pare che vadano d'accordo le due cognate qua. Ma forse avrei dovuto preparare dei cupcake. Che ne dici? Tutti quei cupcake ce l'avete oggi. Non ho capito perché. Vabbè. Eh, tesoro, mi dispiace che siete andati via così presto da Sulani. Vi avrei ospitati un altro po'. Ma no, papà, davvero, dovevo riprendere a lavorare, a studiare. Eh, allora come va con gli studi? Beh, è un po' a rilento perché il lavoro, soprattutto il razzo, mi occupano un sacco di tempo. Eh beh, soprattutto considerato come ultimamente utilizzi il razzo. E direi che i risultati si vedano. E non le farà affatto piacere quando lo scoprirà. No, no. Lo sappiamo tutti com'è fatta. Non le farà affatto piacere. Beh, comunque anche qua c'è un bel sole. Almeno non si cuoce. Beh, sì, è un bel sole qua. E oltretutto abbiamo l'impronta ecologica verde qua. Beh, con tutti gli alberi che ci sono, ovvio. Ah, ciao Damien, come va? Ah, ciao ragazzo mio, tutto bene allora? La vita da sposini? Vi aggrada? Eh? Comunque anch'io ho trovato una compagna. Ho fatto esattamente come mi hai detto tu. Ma davvero, papà, è una notizia splendida. Eh sì, ha trovato una compagna, una moglie. Non lo so esattamente se si sono sposati, penso proprio di sì. Però se andiamo a vedere qua... Vediamo che sì, si è sposato con... una certa Valentina Bianchi. Che ha figli? No, non ha figli. Va bene. Perfetto. A questo punto mi sa che ci manca solo... Antea. E poi dovremmo esserci tutti. Vediamo se per caso è arrivata. Sì, è arrivata proprio in questo momento. Per cui... Aggiunge il gruppo. E se Rossana è pronta... Io metterò in un'altra ciotola. Giusto per essere sicuri. Direi che possiamo brindare alla primavera... con un goccio di cava. Che profumino questa cava. Mi ricorda tanto la cena dell'altra sera. Sì, vabbè che... Nella tua condizione probabilmente hai un olfatto un po' svasato. Ma così mi sembra un po' esagerato, eh. Tesoro mio. Perfetto. E anche tu chiama a prendere la bevanda. Tu puoi. Ma... Facciamo... Sì. Prendi una bevanda. Che carino Antea. Guardatele. È troppo bella. Comunque ne approfitto di questo momento in cui i nostri bevono per... Ma perché andate dentro? Ma dai. Con questo sole. Per ringraziare la mia amica... Anche i productions perché mi ha fatto notare che se... Dov'è? Se Darren al matrimonio parlava con Sophie, che gli dava consigli appunto su come sopportare Marisol, che ha già il plumbob girato, è perché è anche sua cugina. Perché in effetti Barley e Rossana hanno... Cioè, sono lui fratello di Aria. Lei sorella di... Oh mio Dio. Lei sorella di Ruben. E quindi chiaramente Sophie e Silver sono cugini di primo grado anche di Darren. La dimostrazione, eccola qua. Cugina. E poi, vabbè, Silver, stessa cosa. Non serve che ve lo mostri. Ma io creo famiglie così complicate che tendo a scordarmi di tutti questi legami familiari intricati. Per cui ringrazio tantissimo Aki Productions per avermelo ricordato. Perché io non me lo ricordavo assolutamente. Dai, parla un po' con i bambini. Marisol. Parla con i più piccoli. Ringrazia per la presenza. Era allegra. E anche tu, magari, potresti parlare con l'altro figlio di Oriel e Silver. Dov'è? Non lo so. Vabbè, quando lo vedremo. Ci parlerai. Intanto puoi parlare con Acer. Perché no? Vantati della famiglia. Eh, tra un po' avrai di cui vantarti. Ringrazia per la presenza. Intanto, un buon punto di partenza. Io ne approfitto di questo momento di chiacchiere tra, uh, tesoro, la vescica, tra tanti familiari per fare un annuncio che per me è importantissimo. Dopo tanti tentennamenti, dopo tanti anni che ci lavoro, ho deciso di pubblicare il primo romanzo che ho scritto. Sì, ragazzi. Io ve lo butto lì. Vi butto di questa cosa. Vi darò indicazioni più precise, più in là. Come per esempio la data esatta. Vi dirò il titolo. Poi ci sarà sul mio secondo canale, chiaramente, una presentazione del romanzo. Per cui restate sintonizzati. Se non siete ancora iscritti al mio secondo canale, vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Vi lascio sempre il link in descrizione, come tutti quelli dei miei amici youtuber, che vi invito a seguire. Per cui, questa è la notiziona! Io sono... Cioè, sono così incredula che non riesco neanche a capacitarmene, quindi ad essere agitata, quando lo dico. Perché è una cosa... È un pensiero ancora astratto. Non ho ancora realizzato la cosa, sinceramente. Però, io direi che, prima che la festa finisca, potremmo veramente andare tutti quanti a farci una bella scivolata. Come ci sta già pensando Barley. Ma perché così, tesoro? Ma no! Cambia l'abito! Ma tesoro, non è il costume adatto quello. Mettiti questo. E... Scivola... No, non guarda chi scivola. Vabbè, guarda chi scivola. Va benissimo. Scivola... Ah no! Scivola con... Scivola con praticamente tutti. Uno, due, tre, quattro... Possiamo invitarli tutti? Altro che... Con tutti i maschietti. E tu scivola con tutte le femminucce, come siamo soliti fare. Così non mi confondo, invito tutti e via. Vabbè, Antea è già lì, però le reinvitiamo. E ci siamo tutti. Per cui, gara di scivolate per concludere questa festa della cava. In realtà, della giornata di primavera. Vai! L'età non t'ha sconfitto, Damien. Complimenti! Avanti il prossimo. Chi è? Uh, la nostra Oriel che fa una scivolata degna di nota. Sotto a chi tocca? Sophie! Brava, anche lei! Vai Marisol, buttati! Ha fatto la spanciata. Però, vabbè. L'unica che va di pancia, Marisol. Deve sempre fare l'alternativa, eh? No, è già finita la festa. Ma dai! Vai, Crimson! Però pensavo che avrebbe fatto qualcosa di un po' più raffinato, no? Di un po' più roar. E invece... Oh, anche Silver. Bravo! Vai di pancia. Vediamoci. Jean Paul. Sì. E non è rimasto qua. Stai facendo d'arbitro? Chi vince questa gara, ragazzi? Vai! Ma tutti, in realtà. Non ho visto nessuno fare figuracce finora. Vai Darren. Oh, anche lui. Si è sintonizzato sullo stile di Marisol. Benissimo. Di nuovo, Damien. Ma è già il tuo secondo turno. Ok, io direi che dato che la festa è finita, si può anche tornare a casa, in effetti. Per cui, grazie a tutti i nostri aspetti per essere stati con noi, quanti sono i Barry, praticamente hanno invaso il parco, e torniamo a casa. E anzi, passiamo direttamente a un altro giorno, a questo punto. E una notte, qualche tempo dopo, Marisol, mentre dorme, ha una rivelazione. Si mangia per due. Darren, è successa una cosa incredibile. Incredibile, cioè? E cioè, mentre sognavo, mi sono resa conto di alcune cose che sono successe nell'ultimo periodo. E, insomma, nel sogno ho fatto due più due. E sono incinta. E lui, incinta. Oddio, tesoro, è una cosa meravigliosa. No che non è una cosa meravigliosa. Rosa mia, non capisci che questo è un dramma. Non riuscirò mai a prendere quella promozione. E lui, oh, Marisol, ma sei sempre così stupenda, così brava. Fai un massaggio? Ti prego, rilassati. È una cosa bellissima, saremo genitori. Vieni qua, che mi sembri un po' tesa. Ho capito, ma io non sarò mai capace di fare la madre. No, tesoro, sarai una madre splendida. Ma la mia carriera? Non preoccuparti. Siamo in due. Ci daremo una mano a vicenda. Nessuno di noi è nato genitore, ma impareremo a farlo insieme. Ma sei sicuro che... Eh sì, deve vomitare. Tesoro, lasciala andare a vomitare. Oh mio Dio. Questa notizia mi scombussola peggio che una festa. A suonare i bonghi. Eh vabbè, ci credo. È un filo di più. Vabbè, torna a dormire però, tesoro, perché sennò domani la vedo dura. E Marisol, dopo aver vomitato l'anima per l'ennesima volta... No, vabbè, in realtà non ha vomitato molto. Va a svegliare sua madre perché è terrorizzata da questa cosa. E quindi cerca il conforto dall'unica persona che, secondo lei, vede la cosa in maniera un po' più razionale. Che non sia Darren. Cioè Darren, figuriamoci, voleva diventare padre già da un bel po'. Mamma, scusa se ti sveglio. Però devo dirti una cosa importantissima. E lei, shh, tesoro, non svegliare Barley che sta dormendo, mamma. Oh mio Dio, devo già cominciare a pensare a comprare i pannolini. E lei, come tesoro, cosa stai dicendo? Mamma, sì. Come da non ripetere, ma va, dai. Mamma, sono... Incinta. E lei, come incinta? Dio tesoro, è una cosa stupenda. No, mamma, è una sciagura. Insomma, mi vedi a preparare i biberon in piena notte? O a dar da mangiare a un bambino al seno. Tesoro, le dice lei, nemmeno io ero pronta a diventare madre quando sei arrivata tu. Per cui, conversazione profonda. Però vedi, un figlio è la cosa migliore che possa capitare. Sì, certo, per ora solo lo nasa. Ti giuro che in tutto l'universo non c'è cosa più bella che io abbia sperimentato che diventare madre. È vero, la tua carriera magari sarà un po' rilento. Ma vedrai, tesoro, non sarà una cosa che ti... Che ti bloccherà, assolutamente. E anzi, sai che ti dico, amore mio? E lei? Cosa, mamma? Che adesso posso anche morire felice? Eh sì, tesoro. Eh sì, tesoro mio. Io penso che in questo momento debba essere qua anche Darren. A dare manforte a Marisol. Oh mio Dio, mamma, non stavi scherzando allora? No, tesoro, non stava scherzando. Dove stai andando? E anche Barley, secondo me, si alza perché, insomma, è impossibile rimanere addormentati durante un momento del genere. Però lui è felice. Ah no, adesso si è reso conto. Si sono tutti resi conto di cosa sta succedendo. Eh sì, ragazzi. Sì. Purtroppo la nostra Rossana ci sta lasciando. Per cui, Rossana, tesoro, addio. Grandissima erede della generazione rossa. Sei stata una grande erede. La tua generazione ci ha regalato davvero momenti molto intensi. Ciao Rossana, ti abbiamo voluto bene. Davvero tanto. E io in questo momento dolce, ma anche amaro, eh sì, le vite vanno, le vite vengono. Io vi saluto e spero che questo episodio, nonostante il finale triste, vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate della gravidanza di Marisol. Lasciate un bel like, quindi lasciate un commento. Iscrivetevi se siete nuovi, mi raccomando, attivate la campanella, andate in descrizione, dove potete trovare i link a tutti i canali dei miei amici youtuber. Il link al mio secondo canale e alla mia affiliazione Instant Gaming. Per cui grazie per essere stati con me oggi. Noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!